Grazie Giovanna, buongiorno a tutti. Allora, io non conoscevo la lettera che è appena stata letta, recitata, quindi è come se dovessi praticamente resettare tutto il mio intervento, perché in realtà è tutto lì, l'idea di avanguardia di Brebbia. Ora, caro Leonardo, come dicevo a Mekas, io non so se voi sapete chi è Jonas Mekas, ma si tratta probabilmente del più importante cineasta d'avanguardia di cinema sperimentale di quell'epoca, l'inventore dell'underground americano, insieme a Stan Bakeridge. Se qualcuno di voi ha visto un film, e questo era il vero inizio, diciamo, del mio intervento, un film uscito quest'anno che si intitola Nico, è la storia degli ultimi tre anni di vita di Nico, che fu modella e soprattutto musicista, grande musicista, noi la conosciamo in particolare per la sua attività con i Velvet Underground, ma la regista Susanna Nicchiarelli sceglie molto saggiamente di concentrarsi sugli ultimi tre anni di vita, anche di vita artistica, perché in realtà ebbe poi una seconda giovinezza creativa molto matura e sperimentale. A un certo punto nel film si vede uno stralcio, un'immagine in bianco e nero, che in qualche modo fa anche da contrapunto con il resto che stiamo guardando, ed è un vecchio superotto, girato appunto da Jonas Mekas, in cui si vede la vera Nico, perché nel film è interpretata da un'attrice naturalmente, insieme a Andy Warhol, ad una festa, un ricevimento, un party, vale l'oggetto, vale la testimonianza, vale il fatto che faccia parte di un lavoro appunto sperimentale di Mekas, che era un punto di riferimento anche per Brebbia e per tutti i cineasti della cooperativa del cinema indipendente intorno alla quale si riunivano i maggiori talenti del cinema sperimentale italiano. Ma si capisce dall'inizio di questa lettera come sia un rapporto inter pares, cioè non è che ci sia la venerazione forse anche un po' provinciale che ci può essere oggi nei confronti dei grandi registi americani, peraltro Mekas, già dal cognome lo potete intuire, è di origine europea, ma è cresciuto sia biograficamente che artisticamente negli Stati Uniti. C'è un rapporto di dialogo costante tra questi artisti, al di qua e al di là dell'oceano, che ha reso questo momento breve, quello del cinema sperimentale, ma intenso, come si suol dire, e forse anche irripetibile, proprio per questa familiarità epistolare prima di tutto che c'era tra le varie componenti di questo movimento. Però io devo parlarvi dell'idea di avanguardia di Brebbia. Guardate, io di film di Brebbia, come avete sentito anche prima da quello che diceva Giovanna, ne ha girati veramente tanti, sono dei film per lo più brevi, quindi c'è naturalmente anche la possibilità di poterli vedere sfidando un numero di titoli che supera abbondantemente la cinquantina. Mi sembra di poter dire che le cose migliori, perlomeno tra quelle che ho visto io, si concentrino proprio intorno al 68, cioè in questo triennio che va dal 67 al 69. Io, Giovanna lo sa, sono particolarmente affascinato e diciamo così amante di idea assurda per un filmmaker, in particolare dell'episodio Luna, che coincide proprio con il 1969, l'anno dello sbarco del... che infatti l'anno prossimo... ci lavoreremo l'anno prossimo. Ma appunto oggi celebriamo un altro anniversario, che è quello di Extremity 2, che è quello del 68. Ma non avevo pensato, guardando i film che guardai in occasione del primo convegno all'Insubria, non avevo pensato a quale potesse essere l'idea, il minimo comune denominatore tra la maggior parte dei film di Brebbia che vedevo e poi anche tra molti altri film della sperimentazione, del sperimentalismo italiano. L'illuminazione, devo dire, mi è venuta guardando Nico e quell'immagine e poi parlando con Emilio Esgro, quando l'abbiamo incontrato a casa sua qualche giorno fa, e sarà poi anche l'argomento della conversazione che faremo alla fine della giornata insieme a lui, quello che manca all'underground americano e che invece hanno avuto gli italiani è il contatto con le altre arti così forti. Cioè, e per altre arti intendo le arti figurative, il design, la pittura, la scultura. Noi non abbiamo avuto bisogno, e questi cineasti, Brebbia per primo, perché aveva un rapporto di amicizia con molti artisti, soprattutto quelli della scena varesina o svizzera o milanese, ma non solo, proprio perché c'erano forti questi legami epistolari, ma anche gli altri. Esgro mi diceva che loro non la vedevano la frontiera tra il cinema e il lavoro con la materia. Anche la pellicola diventava una materia. E Brebbia questo ci ha insegnato, che la pellicola è materia. È materia, prima diceva Matteo, è materia viva per chi fa il cinetecaro, lo dico senza alcuna accezione sminuente, ma anzi è un lavoro nobilissimo, proprio perché si ha a che fare con una materia che deve essere mantenuta in vita il più a lungo possibile, perché è di una fragilità. Le pellicole sono fragilissime, sono tra i materiali più fragili in assoluto. Tarantino ha immaginato di cambiare le sorti della storia sulla fragilità della pellicola, se vi ricordate il finale di Bastardi senza gloria. Ecco, lavorare sulla pellicola come si trattasse della materia che utilizzano artisti di altri campi, mi riferisco in questo caso in particolare alla scultura, ma non solo, intuire negli anni Sessanta il legame in nuce potenziale tra il cinema, la pratica cinematografica e il design, che proprio in quegli anni aveva un'esplosione e cominciava a stabilirsi come specifico italiano riconosciuto e rispettato nel mondo. Finché non sono gli stessi artisti, tra virgolette, altri, a sentire il bisogno di dover utilizzare, di poter utilizzare il mezzo cinematografico. Pensate a Mario Schifano, che firma dei film, ed è un esempio tra tanti. Lo stesso Isgro, poi ne parleremo, anche se il suo film lo sentirete, è un po' particolare. C'è, non c'è, diciamo così. Ma al di là dei risultati effettivi, quello che conta è l'intenzione, naturalmente. L'intenzione e l'intuizione. E devo dire che Brebbia, voi quando poi vedrete Extremity 2, lo ha già praticamente presentato Giovanna prima, Extremity 2 è una palestra, è un laboratorio, è un territorio di sperimentazione in ogni direzione. In primis quella cinematografica. Roberto Maroni prima diceva giustamente all'epoca non c'era la tecnologia che c'è adesso. Quindi era molto più difficile. Io ho trovato un breve pensiero che avevo avuto quando vedi UFO, che anche questo è stato citato, altro film del 68, di Brebbia, e scrissi, innovativa la scelta della macchina da presa in costante movimento, tra parentesi tipo a mano, oggi pratica ricorrente, allora forse meno. È certo. Perché adesso cose che ci sembrano estremamente scontate, proprio da un punto di vista linguistico, ovviamente la tecnologia ha fatto vari passi, siamo arrivati al digitale, ci sembra davvero tutto più a portata di mano. Ma all'epoca si sperimentava anche, non soltanto sulla pellicola, sulla tipologia di meccanismo, ma si sperimentava anche sul tipo di linguaggio, su come poter rappresentare l'oggetto della rappresentazione. E l'oggetto della rappresentazione diventava, a sua volta, l'elemento di maggiore ispirazione per questi cineasti. Perché noi pensiamo poco, e questo forse è un limite del periodo, magari poi il professor Orecchia so che ci parlerà del 68, in quanto storia con la S maiuscola. Noi pensiamo poco al legame tra le arti e il cinema in questo territorio di sperimentazione del quale ci stiamo occupando, perché siamo troppo distratti dal valore politico, dalle istanze politiche che tanti di questi cineasti portavano dietro quando facevano i loro film. A me, per primo, è capitato di vedere dei film, anche di brebbi, e di considerarli, tra virgolette, velleitari. Velleitari per come li guardiamo col senno di poi, diciamo, ma perfettamente calati nello spirito del tempo, che era uno spirito contestatario, era uno spirito di grande ricerca, lo avete sentito anche dalla lettera a Leonardo, di grande ricerca e di grande rivendicazione di indipendenza, che era un'indipendenza politica. Un discorso che affascinava tantissimo, ne parleremo anche con Isgro, perché anche egli era calato perfettamente in quel tempo, nel suo tempo, ma che forse, dal punto di vista filologico, dal punto di vista di chi, come noi, deve fare questo lavoro di studio dei materiali, ci ha un pochino distratto. È diventato un pochettino l'elemento principe di analisi e ci si è in qualche modo accorti meno che dietro c'era un grandissimo lavoro sulla tecnologia, sulla tecnica, sul linguaggio, sulla contaminazione, sul rapporto con le altre arti, ripeto, un rapporto che non aveva complessi, che non aveva momenti di inferiorità, ma anzi, era un rapporto, diciamo così, come poteva esserci con il grande maestro Mekas, un rapporto assolutamente paritario. Chiudo dicendo che, quando abbiamo fatto l'ultimo, o il penultimo convegno, forse il penultimo convegno, abbiamo ricevuto una lettera da Jonas Mekas, che benché sia novantenne, evidentemente, come Frederick Wiseman è ancora in grandissima forma, che ha detto, ah, perché non me l'avete detto? Sarei venuto volentieri. e quindi noi speriamo che prima o poi, comunque, a parte gli scherzi, ci è piaciuto il fatto che questo tipo di lavoro che stiamo facendo fosse riconosciuto anche da chi, insomma, in qualche modo, il cinema sperimentale, perlomeno come definizione e come classificazione all'interno della storiografia cinematografica, l'ha un po' inventato. Grazie. 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 Grazie.